Secondo giorno del Festival del Cambiamento, quali sono i temi principali che affronteranno il suo intervento? Il tema principale fondamentalmente è come collegare il cambiamento, come collegare la sostenibilità a una cultura di impresa consolidata, cioè praticamente in quale leggere questo sviluppo non solo come un fatto etico, che evidentemente è un dato di fatto, ma anche con un'opportunità per le imprese di essere più competitive in un mercato che chiede sempre una maggiore capacità di resilienza delle stesse.